Rieccoci insieme col Bianchi e Rosso TV Sport, il nostro ospite è il colonnello Vita Antonio Laricchia, il meteorologo di fiducia ormai di tutti i baresi. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Dovrebbe esserci un amico in linea, aspettiamo qualche istante, nel frattempo facciamo così. No, c'è l'amico, pronto? Buonasera, ciao Enzo D'Atrigiano, saluto anche l'ospite in studio. Ciao, ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Niente, volevo soltanto fare una considerazione e poi diciamo più che altro un grazie insomma in generale un po' a tutti i componenti della società del Bari. Sì. Niente, la considerazione è questa, io sono oltre 30 anni che seguo la squadra, ne ho 42 e diciamo che in tutti questi anni la cosa importante che ho notato in quest'ultimo periodo è che parecchie società di calcio, delle grandi società di calcio di Serie A hanno quasi, non dico paura di giocare contro il Bari, ma quasi. Quindi questo è un dato molto, molto importante che io non ricordo a memoria che sia mai potuto succedere, almeno sia anche quando siamo andati a giocare a Napoli che il Presidente di Napoli aveva un po' preparato la partita, ecco, tra virgolette. E' una novità questa, hai ragione. Esatto. Niente, l'altro invece volevo appunto ringraziare tutte le componenti della società, partenze della società, direttore sportivo, allenatore, giocatori, anche veramente di un 2009 stratosferico, secondo me. 2010, facciamo un 2010 che è meglio. E' un 2010, un augurio anche per un ottimo 2010, direi anche più che altro un consiglio ai tifosi, lasciamo lavorare Giorgio Perinetti perché è un direttore sportivo con i fiocchi. Grazie per il tuo intervento, grazie, grazie. 080-501-9998, intanto chiedo alla regia, a Cristian Siciliani, se riusciamo a mettere quelle immagini degli obiettivi di Mercato del Bari che abbiamo mostrato ieri, insomma per vedere qualche volto al quale forse faremo l'abitudine. Colonnello, parliamo adesso però proprio brevemente di previsione del tempo perché immagino che molti siano impazienti e vogliono sapere che tempo farà nei prossimi giorni. E poi possiamo dire già con un latinismo malatempora current, diciamo, no? Ci sono diversi siti di meteorologia, voi vede sui giornali, uno da sereno, l'altro poco nuvoloso, non facciamo i nomi, delle oscenità vere e proprie di previsione. L'importante è che si studino le carte meteorologiche al suolo in quota che dovrebbero dare la possibilità al meteorologo di essere un buon previsore. Prevedere il futuro non è certamente facile ma dal punto di vista meteorologico, come avete visto anche oggi, il tempo non è granché. Saranno sempre correnti a caratteri sciroccali, purtroppo. Quindi caldo, abbastanza caldo? Non abbastanza caldo perché c'è un tasso di umidità abbastanza alto. Le temperature sono nella media del periodo, quindi non farà il caldo dei 21 gradi che abbiamo avuto nella settimana pre-natalizia, come avete visto e provato sulla vostra pelle. Temperature massimo di 16 gradi, non andiamo oltre. Correnti a caratteri sciroccali che ci interesseranno. E in queste correnti ci sono dei corpi nuvolosi, come quello che ci sta interessando oggi, con delle brevi piogge a tratti. Quindi ombrello a seguito. E va avanti così fino a Capodanno? Va avanti così fino a fine anno, fino al giorno 31. Quindi anche a rischio a tratti la notte di fine anno, a mio parere. Anche se molti danno sereno, ma ritengo che non sia così. Sarà un cielo nuvoloso. I più sfortunati prenderanno qualche goccia d'acqua. Il giorno 1, primo dell'anno, non è buono il tempo, ecco diciamo in questa maestra, è nuvoloso con pioggia in arrivo. Arriva il maestrale dal giorno 2, quindi abbattimento delle temperature. Arriveremo a 8 gradi, 9 gradi, quindi farà abbastanza fresco. Vento fresco di maestrale. Buona la giornata soleggiata del giorno 3, sempre con vento di maestrale. Cala rapidamente il maestrale. Questa è la caratteristica, perché il maestrale da noi... Questo periodo va e viene il maestrale. Bravo, esattamente. E' un maestrale, dalle nostre parti, basso adriatico, doveva durare 3 giorni, come dico io, nasce, pasce e muore. Quando vedete che il maestrale dura appena un giorno, vuol dire che il tempo si guasta. Infatti, a parte il 3, subito al 4, di nuovo carattere sciroccale dei venti e di nuovo altra perturbazione che la Befana ci dovrebbe portare. Si è spinto, e 7 giorni sono già tanti. Sono tanti, perché le previsioni si fanno massimo 48-72 ore. Il coronello Laricchia è un tifoso del maestrale. C'è una miglia in linea, pronto? Sì, pronto? Sì, pronto? Sì. Sì, ciao, sono Giuseppe. Ciao Giuseppe, ciao. Niente, penso, io... Cioè, l'amico di prima mi ha rubato le parole, perché anch'io stavo pensando al fatto che comunque... Quest'anno si nota che le altre squadre ci temono. C'è la dimostrazione di Stato Napoli e questo scandalo di Genova, perché è scandaloso quello che è successo. Poi io non ho capito se tipo Preziosi, a fare parte ancora del mondo del calcio, dopo tutte le problematiche che ha avuto lui in passato, però purtroppo sappiamo che oggi comandano i soldi. Preziosi ne fa girare senz'altro, infatti. È vero, è vero. Che dirti, non dimentichiamo Preziosi cosa riuscì a fare, col Genova un passo dalla Serie A, mandò un suo... Col Como, col Como anche. Col Como anche, ma diciamo il fatto eclatante che ricordo io, col Genova un passo dalla Serie A, mandò un suo emissario con una valigia piena di soldi a comprarsi l'ultimo in classifica, il Venezia. Cosa ne derivò? Addirittura la retrocessione del Genova in Serie C, cioè il Genova si ritrovò dalla Serie A alla Serie C in un... È incredibile come tifosi del Genova, bisogna dare un atto, insomma un atto di fede, non so cosa... Comunque non abbiano mai mollato, anzi considerano Preziosi un beniamino assoluto, davvero stranezza del calcio. Per me nel momento in cui fai una cosa del genere devi sparire dal mondo del calcio, in Italia invece non solo nel calcio, un po' dappertutto questi personaggi riescono in qualche modo a resistere, a reggere e a riciclarsi. È una cosa che francamente mi indigna molto sul piano personale. 080-501-9998 per le vostre telefonate, stiamo anche parlando di mercato, secondo voi che serve al Bari? Coronello, da appassionato, da tifoso, che cosa serve al Bari per fare un ulteriore salto di qualità? Sì, ma diciamo da sportivo, avendo fatto l'alto di calcio, avendo calcato campi a livello nazionale, io mi auguro soltanto che gli innesti che il Bari farà siano persone, siano giocatori che si possono appunto innestare nel giro della squadra. Voi vedete quando il Bari gioca è tutta la squadra che corre e il segreto delle calci è proprio questo, far correre i giocatori senza palla. Il Bari lo fa e questo penso che sia il segreto del Bari, che lascia un po' interdetti gli avversari che non sanno a chi andare, dove andare dietro, se andare dietro al portatore di palla o si vedono sbucare i nostri giocatori o da destra o da sinistra o dal centro. Ecco per esempio il gol di Almiron con la Juventus, è stato un passaggio dalla parte sinistra verso il centro e Almiron con un diagonale, fortunoso o meno, ha centrato la porta e avrebbe fatto Buffon. Questo per dire il Bari gli schemi ce l'ha, l'importante è che gli innesti che si faranno saranno giocatori funzionali che daranno una certa verve alla squadra e agli schemi che Ventura per fortuna ci sta applicando in maniera interessante, ci sta facendo anche divertire, ecco perché appunto lo spettacolo del calcio e uno va allo stadio. 080-501-9998 per le vostre telefonate, c'è un amico in linea, pronto? Enzo. Pronto? Enzo. Ehi, ciao. Ciao, ciao. Volevo sapere, il 31 si era, volevo sapere, ci sarà il vento, anche per sapere se posso scoppiare qualcosa che c'è, poi col vento può... Che vuoi fare? Vuoi far scoppiare i petardi? Vabbè, lasciamo a perdere. È inascoltabile quello che chiedi. È improponibile. Piove, per cui si bagna i petardi, lascia i pelli, non li comprare. Serve d'acqua, dai, non li comprare. Va bene, 080-501-9998, scherza, io credo che sia, anche dalla voce si sente, insomma. Ci sarà poco vento, poco vento, temperatura accettabile, vai. Non so se, chiedo alla redazione, se riusciamo a sapere, prima dell'ultima parte del Biancheroso di B Sport, qualche notizia relativa all'allenamento di oggi a Pomezia Terme, in particolare i riflettori sono puntati su Salvatore Masiello, un giocatore importante per il Bari di questa prima parte del campionato, che dovrebbe recuperare per il match contro l'Udinese del giorno dell'Epifania. Fermiamoci per qualche istante, poi torniamo insieme con il Biancheroso di B Sport.